Il maltempo e la lingua di sabbia che è aumentata praticamente durante la nottata è andata a sbattere contro la barca ormeggiata regolarmente, in sicurezza. Fino a ieri sera alle otto e mezza ero qua ed era tutto a posto e stamattina mi hanno chiamato dicendomi che la barca è andata a fondo. E questi danni chi li paga? Chi li deve pagare io? Non è che il comune o c'è qualche ente che mi possa... anche se i danni non sono causati da me stesso, ma causati dal problema della sabbia del porto. La sabbia è diamagnale. A chi devo fare causa? Io non lo so. Come ditta non so nemmeno quello che devo dire, perché i danni sono parecchi, saranno sui 30.000 euro di danni. Però non so nemmeno a chi dovrei chiedere. Io non sto lavorando. La barca era l'unico mezzo di sostentamento per poter lavorare con la ditta. Non lo so. Non so se c'è qualcuno che mi può aiutare, che mi dà qualche consiglio. Per spiegare queste carte, per vedere di recuperare qualche cosa, che ben venga. Se no, niente. Pazienza. Mi piangerò su me stesso i danni che sono successi. Praticamente prenderò la barca, la tiro, la metto fuori e... Quando sarà, se sarà o si demolisce o se inizia a lavorare si aggiusta la barca.